Ciao a tutti, benvenuti a questa enesima recensione e visione, ho appena terminato di vedere Rachel sta per sposarsi, titolo italiano, testuale, perfetto, di Rachel Gady Wedding, film uscito in Italia a novembre di quest'anno, l'hanno portato a Venezia a settembre, film Jonathan Demme, per intenderci, regista ad esempio dei Silenzio Innocenti, regista di Philadelphia e regista insomma anche dei Manchuria Candidate film che è uscito, l'ultimo film per la grande sala, per il grande schermo, era dei Manchuria Candidate di un paio di anni fa. Film che si rifà secondo me fondamentalmente, il protagonista è Nathaway, questa brava attrice americana, famosa e più per il diavolo Vesta e Prada. Meryl Streep era la cattiva e Nathaway era la ragazzetta e le prime armi. Ok, parliamo di Rachel Gady Wedding, film che reputo interessante per alcuni motivi e molto scopiazzante per altri. Interessante per la strepitosa prova d'attrice di Nathaway, complimenti, molto brava, circondata comunque anche da tutta una serie di altri attori molto molto validi. Meno interessante è il discorso che si rifà secondo me esplicitamente a quel movimento cinematografico di metà anni 90, il Dogma 95, tra le altre appunto manifesto firmato tra altri da Lass von Trier, forse quello che è appunto più successo ai più, gli altri insomma ci sono un po' persi, gli altri registi che firmarono questo Dogma, che in pratica voleva riportare il cinema all'autenticità e allontanarsi dai fasti hollywoodiani, dalle mega produzione, dei mega budget, degli effetti speciali. Loro fondamentalmente vogliono girare film veri, storie vere, semplici, con camera sempre a mano, luci naturali non artificiali, zero effetti speciali, se c'è colonna sonora deve essere suonata in quel momento, mentre si riprende e non messa in post produzione, quindi tutta una serie di regole per appunto creare un cinema molto reale, molto vicino alla normalità. Uguale fa Jonathan Demme con questo film, tutto camera a mano, se c'è una colonna sonora è perché in quel momento stanno suonando dal vivo con gli strumenti, le luci, ecco, qui si vede il fattore un po' più hollywoodiano perché c'è una bellissima fotografia ed è molto ben curato da questo punto di vista, quindi è un mezzo e mezzo. Si rifà tantissimo secondo me come ambientazione a Festen, che è appunto il film più famoso del Dogma 95 e forse per questo non lo reputo intelligentissimo come il film. Da vedere sicuramente per la buona prova d'attrice di Nathway e per gli altri attori. Poi per il resto ho un film drammatico che lascia il segno ma che ovviamente come a Dollywood finisce sempre tutto bene. Ciao! Grazie!